Musica Dopo anni di segni meno la profonda fase recessiva che ha investito l'Abruzzo, nel 2015 si è arrestata. Anche se permangono elementi di forte preoccupazione per l'economia della nostra regione. A dirgli il rapporto l'economia in Abruzzo a cura della Banca d'Italia, illustrato oggi in un convegno all'auditorium di Renzo Piano all'Aquila. La ripresa, si legge nel rapporto, è stata sostenuta principalmente dal buon andamento della produzione nell'industria, più 4-8%, trenata dalla crescita agli ordinativi sia dall'estero che sul mercato interno. In particolare l'attività produttiva ha mostrato una vivace espansione nel comparto dei mezzi di trasporto, più 14,9%. Le imprese di grande dimensione del manifatturiero hanno registrato incrementi della produzione, nettamente superiore rispetto alle piccole e medie imprese. Segnali positivi anche nel mercato immobiliare e dunque nel settore dell'edilizia, visto che il numero di compravendite in calo da alcuni anni è tornato a crescere del 7,2%. Inoltre il numero degli occupati, marcato calo nel bienno precedente, ha registrato un moderato incremento dello 0,6% e al vivace recupero del primo semestre tuttavia seguite una nuova flessione a partire alla seconda metà dell'anno e rimane ancora elevato il tasso di disoccupazione, pari al 12,6%. Emerge che innanzitutto c'è stato un cambio di passo dell'economia, nel senso che dopo anni di contrazione finalmente vediamo segni più davanti a tutti i parametri più significativi, dal PIL innanzitutto alla produzione industriale, all'occupazione, al credito anche e persino nel campo delle costruzioni, cioè quello che era il settore più disastrato, diciamo così, c'è finalmente un segno positivo. Questo è sicuramente un fatto positivo. Scorporando infine i dati complessivi su squala regionale, si osserva che ad alzare la media in modo decisivo di produzione, export e occupazione sono solo alcune aree e alcuni settori, in primis il polo industriale della Val di Sangro dove la Sevele e il suo indotto macina numeri da record. In altri territori invece la fine della crisi non la si vede nemmeno con il binocolo. Quelli che tirano la volata diciamo sono le grandi imprese e mentre le piccole imprese faticano. Quali grandi imprese? Beh innanzitutto quella del Sangro Teatino, la Sevele che è quella che traina praticamente tutta l'economia abruzzese e anche con esportazioni di notevole peso. Certo, questo è un fatto vero che bisogna mettere a fuoco cercando di arrivare a una distribuzione più lata del discorso. La tormentata vicenda di Abruzzo Inginering arriva in Commissione Vigilanza della Regione. La necessità di un chiarimento nasce dalle proteste di buona parte dei 160 lavoratori che non percepiscono stipendi anche da due mesi. Un campanello d'allarme per una società che l'ex presidente Gianni Chiodi aveva definito un inutile baraccone clientelare. Ma che da un passo dal collasso è stata salvata dalla Regione di Luciano D'Alfonso che con 4,5 milioni di euro acquisito tutte le quote private facendola diventare società in house. E ora si attende la sua definitiva uscita dalla procedura di liquidazione a cui seguirà la patrimonializzazione della società. Sull'operazione ha però espresso a forti perplessità anche la Corte dei Conti in merito alla possibilità che avrà la Regione di affidare commesse senza gara alla sua società. E sulla tenuta dei conti di Abruzzo Inginering con conseguente rischio di danno erariale. Perplessità ribadite in commissione dall'opposizione di centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Sì, noi le nostre perplessità le abbiamo espresse da sempre, già da quando si voleva portare questa società in house. Adesso c'è anche una pronuncia della Corte dei Conti. Vediamo che cosa succederà. Rimaniamo comunque nella nostra posizione che è quella che avevamo già un anno fa. Di idee opposte i sindacati, in particolare di Leonardo Piccino, segretario regionale FISCAT Cisle, che fa parte del direttorio che deve chiudere la fase liquidatoria. Per lui l'ITER è obbligato. La Regione ha salvato Abruzzo Inginering e ora deve investire per farla lavorare. Certo è che ci sono visioni diverse. La precedente giunta riteneva che questa azienda fosse un carrozzone e andava chiuso. Questa giunta pensa invece che possa essere un patrimonio per la collettività. Il problema è verificare nel concreto se, dandogli gli strumenti giusti, questa azienda può assolvere questo ruolo. Perché è chiaro ed evidente che non ci possiamo accollare un altro carrozzone. Se la giunta regionale ha fatto questo tipo di scelta, deve dimostrare con gli strumenti validi che questa azienda può camminare con le sue gambe. Ripartire dalla partecipazione per il cambiamento dell'Italia e dei territori, per la riconquista dello spazio politico da parte dei cittadini. Questo l'intento del Festival della Partecipazione, evento nazionale che si svolgerà nella sua prima edizione all'Aquila dal 7 al 10 luglio, organizzato da Cittadinanza Attiva, Action Aid e Slow Food. Quattro giorni di dibatti, di conferenze, spettacoli, musica, cib e cultura, con tanti ospiti d'eccezione. Solo per citarne alcuni, Don Luigi Ciotti, Carlo Petrini, Nadia Orbinati, Fabrizio Barca, Stefano Boeri e l'attore Enrico Loverso, quest'ultimo presente anche oggi alla conferenza stampa di presentazione a Palazzo Fibbioni. Action Aid ha ideato e si è portata dietro Slow Food e Cittadinanza Attiva, nonché il Comune dell'Aquila, questo Festival con l'idea che tre grandi organizzazioni nazionali che hanno obiettivi anche un po' diversi, diciamo, focus tematici diversi, dovessero insieme lavorare su quelli che noi abbiamo chiamato meta-obiettivi, cioè sullo sforzo che noi sentiamo importantissimo nel nostro paese, non solo nella città dell'Aquila, di riattivare la partecipazione civica. Noi non ci sarebbe Slow Food se non ci fossero gli agricoltori, i produttori, gli allevatori. Slow Food è un movimento che mette insieme queste persone, però se non ci fossero loro non ci saremmo. È una grande sfida perché vogliamo raccontare in quattro giorni dal 7 al 10 luglio con oltre 50 eventi come si può partecipare in questo paese dal punto di vista sociale, economico, politico, attraverso il racconto di tante persone che insieme a noi condivideranno questo percorso. La cosa bella di questa città è che qui si è cercato di rispondere a una ricostruzione venuta dall'alto come una ricostruzione partita dal basso, con una volontà di aggregazione e di ridefinizione insieme che è stata fortissima e che ha acquisito un significato e che è stato, credo, un esempio anche per tantissime altre situazioni che ci sono state in Italia. Quindi diciamo che l'Aquila è un luogo non solo geografico ma anche ideale per questo festival è un punto di riferimento per il nostro modo di essere.